La palestra di Green Club La palestra di Green Club nascono dalla profonda amicizia tra me e Daniela, amicizia contraddistinta anche per la passione per lo sport e il benessere. Questa amicizia ha visto nascere come prima la palestra di Carini per poi espanderci a progetto, mentre le due sedi di Palermo sono siti in via Gambretagna, presso il Verestasburgo e in via Giuseppe Giusti, presso gli Asciuti. Le nostre palestre sono caratterizzate da attestature tecniche di ultimissima generazione. Ci avvaliamo anche di trainer specializzati e vantiamo anche la collaborazione con dei presenter di fama internazionale, quali Alessandro Oliveri e David Impallomeni. Con l'apporto dei nostri collaboratori, inoltre, sarà possibile scegliere la formula più idonea alle vostre esigenze, approfittando di volta in volta di eventuali promozioni e servizi personalizzati. Venite quindi a trovarci presso la sede a voi più gradita e per ulteriori informazioni non esitate a visitare il nostro sito www.palesticreinclub.it Ho il piacere di comunicare infine che io e i miei soci stiamo già lavorando all'imminente apertura di un'altra nostra sede a Palermo. In breve vi sveleremo tutti i dettagli. Al prossimo episodio